Ollo, maiale, pesce, insalata, gelato, da McDonald's ogni giorno, a sole 2000 lire, una specialità diversa. Giuliano, ho sopportato la galera solo per vedere punito quel criminale, uscire di prigione con la rabbia nel cuore, ora andrò avanti lo stesso, e farò sapere a tutti chi sei, e incontrare lei, sei bellissimo, e il cuore che si scalda, la passione che si accende, ce ne saremo più. Elena, che basta guardarla, per volerla ad ogni costo, faremo grandi cose insieme, e non poter fare a meno di lei. Non è che per caso lei ha cattive intenzioni, adesso con le ragazze. Cattive? No, anzi. Cento vetrine, cento passioni, da lunedì 8 gennaio dopo Beautiful, su Canale 5. Io non voglio più lavorare con chi mi fa pagare una commissione per ogni frontiera che i miei soldi attraversano, e poi io voglio un unico mercato, globale, con una grande scelta di titoli. Voglio lavorare con il massimo di informazione e trasparenza. Io voglio l'orario più comodo. Per me? Per me? Io non voglio più lavorare complicandomi la vita. Chiedi alla tua banca del mercato elettronico TLX. Trading Lab, sei padrone delle tue azioni. Anzi, io non voglio più lavorare. Certe cose capitano solo d'inverno. Fiat Punto da 15 milioni e 900 mila con anticipo zero fino al 13 gennaio e Fiat 600 anticipo zero tasso zero. Fiat Winter, non perdetevi il meglio dell'inverno. Acidophilus bifidum casei, tre fermenti viruti insieme, mi. Cosa stai facendo? Sto bevendo il nuovo Yomo ABC. Fa benissimo, lo beve sempre anche la mia mamma. Ah, ecco perché ti è venuta quella faccia. Che faccia? Ti sono cresciute le orecchie d'asino. Guarda, guarda. Fiat! Che c'è? Fiat Winter! Yomo! Allora, faccio! Yomo ABC. Proteggi il tuo benessere con tre fermenti in più. E da oggi, due nuovi gusti. Provalo! E se ci chiede qualcosa di anatomia? Con oggi e con il Corriere della Sera c'è l'enciclopedia multimediale Rizzoli La Russa 2001. Il secondo sì di Roma è in edicola da giovedì, 4 gennaio. Tranquilli. Oggi non interrogo. È il pieno, grazie. Benissimo. Chi è? Ma che è? Parmacotto. Ma tu hai chiesto al pieno. E chi se ne frega, ciò mi metti. Io faccio pubblicità solo a Parmacotto. Anche chi non chiede Parmacotto vuole solo Parmacotto. Sarò qui l'ultimo dell'anno promesso. Semplici parole che noi diamo per scontate. Torno presto! Senteremo un ammarraggio! Ma quest'anno un uomo troverà il coraggio per mantenere quella promessa. Ti amo. Sei l'amore della mia vita. Tomex. Preferisco correre il rischio sull'oceano che restare qui a morire. Castaway. Papà, lo sai che ho aumentato il canone del telefono? Ma ti sembra questo il momento di scherzare? Non è uno scherzo. Ma puoi risparmiare sulle telefonate con infostrada, senza canone e senza più fare l'1055. Chiedi subito come. Papà, lo sai che la mamma ha un altro? Dal 2 gennaio il resto del Carlino, la nazione e il giorno ti regalano Premium Card. Vinci ogni giorno cellulari Ericsson Go Wind, carte wind attiva e un'Audi A2 ogni settimana. Super premio finale un Audi di Coupé. La fortuna è in linea. Grazie a tutti. L'unica idea che ricarica tutti è Omitel. E continua fino al 6 gennaio. Attivati. La ricaricabile costa il 50% in meno e per tutto il 2001 avrà il 50% di ricarica gratis. Ragazzi, fra dieci ore siamo in banca. E io fra dieci minuti ho l'influenza. No, il nostro skipper no. Contro raffreddore, febbre e dolori. On e i cold liquid gels. La rapidità della forma liquida nella comodità della capsula. On e i cold liquid gels. Rapido contro l'influenza senza sonnolenza. E' un medicinale leggere il foglio illustrativo, non usare sotto i 6 anni. Mi hai tradito con Karen, Doris, Jennifer e Melissa. Ma come hai potuto con Kim, la mia migliore amica. E' tutto finito tra noi. Come posso fidarmi di te? Mi hai tradito con Karen, Doris... Celebrations, la nuova selezione di grandi marche di cioccolato in miniatura. Lasciami. Ma non vedi com'è bella? La voglio! Sei incorreggibile. Sì. Non cambi mai. Sì. Adesso dice sempre sì. Sì. Sabrina, ti ho sempre detto che non sei il solo amore della mia vita. Neanche tu. Telemarket. L'arte di vendere arte. ABS. Quattro airbag. Climatizzatore di serie. Motore HD turbodiesel Common Rail. Peugeot 306 Station Wagon. A 28 milioni e 900 mila lire. Certe cose capitano solo d'inverno. Fiat punto da 15 milioni e 900 mila. Senza anticipare una lira e solo fino al 13 gennaio. E Winter Check-Up a 35 mila lire. Fiat Winter. Non perdetevi il meglio dell'inverno. Hai sentito? Cosa? Che è aumentato il canone del telefono. Cosa? Ma sembra questo il momento di scherzare. Non è uno scherzo. Però puoi risparmiare sulle telefonate con Infostrada. Senza canone e senza più fare l'1055. Chiedi subito come. Ma è morto. Cosa? Sintomi influenzali? Febbre. Dolori muscolari. Congestione nasale. ActiGrip. E torni a sorridere. ActiGrip. Azione combinata. Contro l'influenza. È un medicinale che può avere controindicazioni ed effetti collaterali. Può indurre sonnalezza. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare ai bambini sotto i 12 anni. La golosità è arrivata alle stelle. Pan di stelle mulino bianco. Mangia sano e vivi meglio. A la golosità. Au reino. A la golosità. Grazie a tutti. 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 Per festeggiare il primo anniversario di Xara Picasso, Citroen fa follie. Picasso a partire da 30 milioni e 600 mila lire, 3 milioni di risparmio su Saxo, 4 milioni su Xara Berline Break, 4 milioni su Citroen Berlingo e 7 milioni su Xantia. Questa eccezionale offerta scade il 31 gennaio. I concessionari vi aspettano. Il grande Papa. Rischio. Non hai dubbi? Ci vuole coraggio e ci vuole fortuna in questo gioco. Più si va avanti più è difficile tentare. Io alla fine mi butto A. E sì, provo. B. È la tua risposta definitiva. La accendiamo. È quella giusta. Con Gerry Scotti torna a grande richiesta chi vuole essere miliardario. Io il vero, l'originale. Domenica alle 20.30 su Canale 5. Dal 2 gennaio il resto del Carlino, la nazione e il giorno ti regalano Premium Card. Vinci ogni giorno cellulari Ericsson Go Wind, Carte Wind attiva e un Audi A2 ogni settimana. Super premio finale un Audi TV Coupé. La fortuna è in linea. Qual è la tua idea di ricarica? Kung Fu? Pesi? Sub? Salto in alto. L'unica idea che ricarica tutti è Omitel. E continua fino al 6 gennaio. Attivati. La ricaricabile costa il 50% in meno. E per tutto il 2001 avrai il 50% di ricarica gratis. Lascia mia. Ma non vedi com'è bella? La voglio. Sei incorreggibile. Sì. Non cambi mai. Sì. Adesso dici sempre sì. Sì. Sabrina, ti ho sempre detto che non sei il solo amore della mia vita. E anche tu. Telemarket. L'arte di vendere arte. Dedicato a tutti. Ovunque festeggino il futuro. Felice anno nuovo da Accenture. Dimagrisci con un prodotto sicuro. Calo. Calo. Meno grassi, meno zuccheri, meno amidi, meno fame, uguale calo di peso corporeo. Per dimagrire e restare in forma, a calo non rinuncio mai. Calo. Da 5 a 7 chili in 4 settimane. In farmacia. Calo. 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 Grazie. Chiedi subito come.